Ciao ragazzi Un attimo che sippo dalla mia Acqua Oh Scusatemi Sono andato a vedere in anteprima Doctor Strange Il multiverso e la follia e quindi mi hanno dato Quest'acqua Che si beve così non così quindi Ho un po' sbagliato Ciao Quel film è troppo bello Andate tutti quanti a vedere quel film Vi prego andate tutti a vedere quel cazzo di film Non mi hanno pagato per dire questa cosa Ma non solamente mi dà l'anteprima Io di solito vado Non faccio storie Non me ne fotte un cazzo Sono opportunista Vado nei posti Non me ne frega niente Vi giuro Vi giuro io sono così Vi giuro Non faccio niente per niente Tanto il film sarebbe uscito l'indomani Non me ne fotte un cazzo Quel film è troppo bello E Lo so Che Lo so che la Marvel Non è Verocinema Lo so che sta rovinando Lo so che sta rovinando il cinema E che Cazzo ormai Vanno più bambini a vedersi A vedersi la Marvel Che Film veri Perché la Marvel non sono film veri Perciò Perciò Vi pregherei a tutti Di Vi pregherei a tutti di Andare a vedere questo film Sapendo che Non è un vero film È un fake film È un fake film Oppure andate e vi divertite Figli di puttana Per una cazzo di volta Vi divertite Che noia Perché la gente rompe il cazzo Per i film della Marvel Victor Mille volte Mille per te Ma Marco Che cazzo vuol dire Devo prenderla male Devo prenderla bene Come Sì Bevi l'acqua del dottore strano Ok Scusami Bevo subito l'acqua del dottore strano Mmm Multiversica Comunque veramente Intanto Allora Fatemi parlare di una cosa Intanto è nata E lo capisco Infatti non biasimo Questa roba qua Che mi chiamano Il Bastian contrario Intanto da dove viene questa parola Però non voglio fare l'aggressivo Io Da dove viene C'è un tizio che si chiama Bastian E dice sempre il contrario Bastian contrario E che a quanto capito È quello che dice il contrario Allora capisco Che potrebbe Risultare Così Quello che percepite Grazie Voglio solamente dire che Non Sono così È vero Che mi piace molto A volte Osservare le cose Da un Punto di vista Diverso Poi ditemi la vostra Perché a me interessa molto La vostra E siamo qua Per fare un dialogo Non sono come Victor Laszlo Che dice Un film è bello E se dite No guarda A me non mi è piaciuto Vi blocca Comunque lui è Brent Un figlio di puttana Vabbè Posso dirlo Victor Laszlo è un figlio di puttana Non sono fatto così Siamo aperti un dialogo Premessa lunga Ma dovuta Quindi scusatemi Ma Da che mondo è mondo Ogni volta che vedo Un fandom Un gruppo di persone Comunque Un pezzo di società Grande A livello di numero Ok Tante persone Non so perché La mia mente Mi porta davvero a pensare Che stiano facendo cazzate Ok Che siano tutti d'accordo Su una unica Grande cazzata Sono abituato così Perciò non biasimo Chi mi dice Quella cosa là Una grande setta Mad Scientist 19 Una grande setta Perciò Da che mondo è mondo Sono stato veramente abituato A pensarla così E Mi dispiace Se a volte Appaio Per il baste Al contrario Che a volte mi dico Nei commenti Sotto il video di Stuvio Ma Posso garantirvi Una cosa Non lo faccio apposta E che vuol dire Farlo apposta Farlo affinché Possa suscitare Un po' di troll In chat E dell'attenzione Assolutamente no Ho grandi Metodi Molto più divertenti Per attirare attenzione Tipo cagare sulla pizza Daniele Urlare Tutte quelle cose Per cui sono stato conosciuto E per cui siamo qua Marco Che altro vi hanno regalato Oltre all'acqua Ti faccio vedere subito Bello che l'hai chiesto Un simpatico Fascicolo Con tutte le copertine Di Doctor Strange C'era un tizio Dei Nirkyup Che ha detto Questo qua Fra Un anno Vale 200 euro Io volevo dire Molto di fama del cazzo Ma che minchia discorso è Scherzo Mi stanno simpatici Ciao Un fumetto Di Doctor Strange Lui e le sue magie Meglio i fumetti giapponesi Vero? Alcuni dicono questo Un poster di mia madre Un altro fascicolo Una maglietta Di Doctor Strange Taglia M E un simpatico Cappellino Col Sancta Sanctorum Col simbolo del Sancta Sanctorum Qui E degli occhialini D'RD Che non apprezzo tantissimo Perciò Veramente Non Basta 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 film Basta film 3D al cinema Per sempre Va bene? Per sempre Basta film 3D al cinema Mai Mai più Ok Volevo anche Spammarvi questo numero in chat Sono delle coordinate Di Google Maps Ok Appena finisce la live Io abbandonerò Questa busta Lì Perché ho scelto Da un po' In questa parte Di utilizzarvi come Spazio Come Vi faccio un regalo Ok Quindi metto questa busta qua La La metto là E vicino qua Si chiama Parco Laghetto E qua vicino La metto sopra Una Delle panchine Che ci sono in queste coordinate qua E' un simpatico laghetto Voi se siete della zona Andate là Girate Lo troverete là Vi direi di sbrigarvi Perché lo faccio subito Dopo Aver finito qui Di sbrigarvi Perché là ci sono molti bambini E sapete come sono i bambini Con la Marvel Un po' come le mosche Col miele Perciò Sbrigatevi Va bene? Vuoto piedi Wanda Mi sa che non si Mi sa Ah si si sono visti i piedi di Wanda Comunque ragazzi Andate a guardarlo Bellissimo film Lo voglio riguardare Ahimè Era in lingua originale Era in lingua Era addoppiato E perciò Però voglio vedermelo in lingua originale